Che cosa è successo davvero a Mario Biondo la sera del 30 maggio scorso? È un suicidio o un omicidio? A Madrid il caso viene chiuso in fretta. Mario si è impiccato. Nelle conclusioni del medico legale si parla di presumibile suicidio. Ed è proprio questa conclusione che non ha mai convinto la famiglia di Mario Biondo. Noi conosciamo Mario, quindi non è da lui. Chi invece sembra certa che possa essersi trattato di un incidente è Raquel Sanchez Silva, la moglie di Mario, nota conduttrice televisiva spagnola. Ascoltata dalla polizia locale poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Mario ne fornisce questa descrizione, depresso e cocainomane. Un Mario così non lo conosce nessuno. Ce lo conosce solo lei. Rachele riprende la sua vita di sempre, mentre la famiglia di Mario prosegue nella ricerca della verità. È stato tutto premeditato. Il mio fratello ha scoperto sicuramente qualche cosa. Sicuro, sicuro, sicuro. Il 30 maggio scorso, Rachele non è in casa. Prova più volte a chiamare Mario al telefono, ma lui non risponde. È la loro governante ad andarlo a cercare. La scena che si presenta agli occhi della donna è agghiacciante. Il corpo di Mario è senza vita. Una sciarpa di seta stringe la sua gola. Mario è completamente vestito. Le gambe sono piegate e i piedi poggiano sul pavimento. Il dato, già di per sé, è oggettivamente incompatibile con una ipotesi di suicidio. E quella libreria, fissata semplicemente con dei tasselli, avrebbe potuto davvero sostenere il peso di Mario? Accanto al suo corpo vengono rinvenute numerose lattine vuote e posacenere pieni di sigarette. Eppure, dall'analisi del medico legale, risulta che Mario ha bevuto soltanto due birre. E allora? Chi c'era con lui quella sera? Mario è morto il 30. Mario non è morto, Mario è stato ammazzato. E se invece diamo per vera l'ipotesi del suicidio, cosa poteva nascondersi dietro quel sorriso? È contenta di prendere il marito il più presente e più ondo Mario? Sì. È in italiano? Sì. Queste immagini sono state girate nel giorno del suo matrimonio con Raquel, soltanto un anno prima della sua morte. Qui Mario è felice ed ha tanti progetti professionali che si stanno per realizzare. Lui era determinatissimo. Doveva riuscire a fare una cosa e non lo fermava niente nessuno. Infatti, il suo sogno era diventare regista. Infatti, c'era quasi riuscita. Ed è con i suoi fratelli con cui Mario ha mantenuto un rapporto speciale che scambia gli ultimi messaggi prima di morire. L'ultimo messaggio inviato da Andrea risale a sei minuti dopo la mezzanotte. Ma a quel messaggio Mario non risponde. È solo un caso? Soltanto dopo la sua morte, Andrea si accorge che l'ultimo accesso dal cellulare di Mario avviene alle 5.59. Eppure il medico legale fissa l'orario della sua morte alle 4 del mattino. Già da questo è chiaro, evidente, che c'è qualcuno che ha toccato quel cellulare. E c'è un ulteriore elemento a destare dubbi nella famiglia. Io appena vi di benico Ferenzi mi ha ribadito che mio fratello non aveva assolutamente nessun segno in tutto il corpo. L'unico segnale che mio fratello aveva è solo un graffio del gatto nel braccio. Soltanto in un secondo momento emergerà la verità. Mario, agli arti inferiori, presentava dell'echimosi. Ed è sulla base di questo dato che viene riaperto il caso. Un fascicolo contro i gnoti presso la procura di Palermo ipotizza il reato di omicidio con premeditazione. La famiglia di Mario, infatti, non può credere che li abbia lasciati così senza preoccuparsi del loro dolore. Ci amava davvero veramente tantissimo, quindi mi sembra strano che non ci avrebbe degnato neanche di un messaggio. E vogliono ricordarlo come in queste immagini quando poco più che un ragazzino si divertiva a girare cortometraggi con il suo sorriso e la sua travolgente voglia di vivere. Grazie.